Buongiorno, sono Eva, frequento la classe quarta di accoglienza turistica dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme. Descriverei il mio indirizzo come un continuo crescere e maturare. Infatti già dalla classe terza, che è il momento in cui scegliamo la nostra specializzazione, i professori ci inseriscono nel mondo del turismo tramite i laboratori, le manifestazioni, lo stage e le materie specifiche. Le principali materie specifiche sono amministrazione delle strutture ricettive, tecniche comunicative, storia dell'arte e accoglienza turistica. Durante le ore di accoglienza turistica abbiamo la possibilità di fare pratica grazie ai laboratori, essi comprendono un'area di vita agenzia viaggi, due back office, due front office e un centralino molto moderno. In questo modo abbiamo la possibilità di esercitarci in tutti gli ambiti, dal segretario d'azienda al receptionist fino anche al settore comunque congressuale e fieristico. Durante l'anno abbiamo la possibilità di fare un periodo lavorativo che si chiama stage in Italia o all'estero. Inoltre grazie a un piccolo esame abbiamo l'opportunità di diventare guide turistiche o accompagnatori turistici. Personalmente sceglierei di nuovo l'Istituto Alberghiero di Riolo Terme ed in particolare il corso di accoglienza turistica perché penso che possa aprire veramente molte porte nel futuro di tutti noi. Buongiorno, sono Dennis e frequento la classe quarta dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme di cucina. Ho la passione per la cucina e alla fine dei cinque anni vorrei intraprendere un percorso universitario per specializzarmi in alimentarista. Al termine dei cinque anni abbiamo la possibilità di entrare nel mondo del lavoro oppure di poter intraprendere un percorso universitario. Dopo il biennio, scegliendo cucina, abbiamo la possibilità di specializzarci in cucina, pasticceria o panificazione e pizzeria. Le discipline che affrontiamo all'interno dell'Istituto, oltre alle materie comuni a tutti gli indirizzi come italiano, storia, matematica e le varie lingue, abbiamo anche diverse materie professionalizzanti per cucina come scienze di alimenti e amministrazione delle imprese enogastronomiche. All'interno di cinque anni la scuola ci permette di specializzarci nella materia e di poterci ambientare nel mondo del lavoro. La scuola ci offre concorsi sia in Italia che all'estero, stage sia in Italia che all'estero, corsi pomeridiani e gemellaggi con altri istituti. Inoltre con il corso di cucina ci viene riconosciuto l'attestato di HCCP. Buongiorno, mi chiamo Dimitria e frequento il quarto anno dell'indirizzo Sala Bar dell'Istituto Alberghiero di Rialo Terme. Questo indirizzo ci permette di diventare i veri e propri professionisti e di entrare in questo mondo preparati, non solo essere dei semplici camerieri ma magari conoscere anche i vini perciò diventare dei veri sommelier oppure nel ramo del bar invece di diventare bravi nel latte art e nella caffetteria in generale. Possiamo anche diventare dei bravissimi bartender conoscendo le tecniche delle preparazioni dei cocktail e non solo curandosi sulle preparazioni ma anche sull'estetica. Già dalla terza dopo aver scelto il proprio indirizzo, nel mio caso Sala e Bar, grazie agli stage e alle manifestazioni che facciamo possiamo poi finire con un diploma statale di maturità e entrare nel mondo del lavoro come dei veri e propri professionisti.